Ciao a tutti, oggi vediamo un prodotto un pochino diverso da quelli trattati solitamente qua sul canale perché parliamo di lui, ovvero il router Huawei Wi-Fi AX3, codice prodotto WS7002. Ne parlo perché ho avuto 15 giorni circa per giocarci, per utilizzarlo e devo dire che nel range della fascia di prezzo a cui è proposto, intorno ai 70€ trovate il link in descrizione che vi riporta la pagina di Amazon offre qualche spunto di novità, qualche elemento un po' diverso dal solito che sicuramente può renderlo un prodotto interessante per alcune tipologie di utenza. Iniziamo però con un minimo di introduzione per cercare di capire che cos'è, cosa fa e come si comporta. Si tratta di un router compatibile con il nuovo standard Wi-Fi 6, ma non solo 6, ma Wi-Fi 6 Plus e vedremo tra poco cosa comporta questa differenza nella dicitura, perché a mio avviso è molto importante. Quindi supporta questo standard che, devo dire, è ancora un pochino acerbo nel senso che nelle case attuali non è ancora uno standard così diffuso, i primi smartphone compatibili li stiamo iniziando a vedere da poco, quindi ci vorrà del tempo prima di avere dei dispositivi in grado di sfruttare questa tecnologia, questo standard, però sicuramente è il futuro che ci aspetta da qui a qualche anno. Cosa offre di per sé il Wi-Fi 6? Offre sicuramente performance migliori per quanto riguarda la diffusione del segnale, per quanto riguarda la velocità di scambio dati e quindi andando a migliorare tutte queste performance di base, aumenta anche di conseguenza l'affidabilità della rete in generale. Ci sono però dei pro e dei contro che ho riscontrato nell'utilizzo quotidiano di questo router. Innanzitutto il grosso contro, e ve lo voglio dire subito, è il livello di copertura del segnale e lo dico da abitante, diciamo, di una casa disposta su più piani. Io ho provato diversi router in passato e ultimamente utilizzavo una soluzione mesh che quindi offre un buon livello di copertura perché appunto si basa sull'installazione di più unità all'interno della casa e in quel modo io solitamente mi sono sempre trovato abbastanza bene. Con questa soluzione devo dire che non ho avuto particolari problemi sul singolo piano, ma ho riscontrato alcuni problemi sulla disposizione a più piani e magari anche nella copertura di quello che può essere lo spazio esterno, quindi il giardino, piuttosto che appunto l'area limitrofa alla casa. In questa situazione devo dire che questo router mi ha dato qualche problemino. Però, ripeto, qua entriamo in un discorso molto soggettivo per cui dipende molto dalla struttura della casa, quanti muri ci sono, ci sono dei fattori chiave che variano di situazione in situazione per cui è difficile poi riuscire a consigliare o sconsigliare un prodotto sulla base appunto della propria abitazione. Quello che posso dirvi è il fatto che comunque si tratta di un prodotto che mi è piaciuto anche per quanto riguarda il lato software. Ho trovato molto pulito il lato software come è gestito un po' il tutto, molto facile la prima installazione e devo dire che una volta che si entra nella sua piattaforma tramite il computer o tramite app è tutto molto abbastanza pulito, molto facile da capire, molto facile da personalizzare. C'è la possibilità di ovviamente andare a vedere quelli che sono tutti i dispositivi connessi, andare magari a limitare la banda a determinati dispositivi e decidendo quanta banda dedicargli. Un'altra impostazione che magari molti richiedono è il fatto di attivare o disattivare il wifi a piacimento e questo è possibile farlo sempre tramite il software, è possibile programmare in base a ogni giorno, stabilire degli orari all'interno del quale il wifi deve essere disattivato e questa non è una funzionalità così banale perché ci sono alcuni prodotti che invece questa cosa non lo consentono. E quindi devo dire che mi sono trovato abbastanza bene appunto per quanto riguarda la gestione a livello software perché ho trovato una soluzione abbastanza completa e chiara, molto chiara anche per un utente magari non troppo esperto. Torniamo però, facciamo un piccolo passo indietro per cercare di capire appunto cos'è la differenza tra il wifi 6 e il wifi 6 plus di cui si equipaggia questa soluzione. Partiamo col dire che il wifi 6 plus è uno standard diciamo di Huawei che sostanzialmente permette ai dispositivi compatibili quindi sostanzialmente i suoi smartphone, i suoi laptop, i suoi tablet compatibili con questo standard, col wifi 6 plus di andare molto più veloce specialmente nel corto raggio e questo perché appunto il segnale wifi viene molto amplificato viene amplificato di circa 6 digi per quindi aumenta la portata del segnale e questa differenza fa sì che la larghezza di banda aumenti diventa quasi il doppio a corto raggio passa da 80 MHz a 160 MHz e questo appunto fa sì che le velocità di trasferimento schizzano verso l'alto però ripeto si tratta di una funzionalità riservata soltanto ai prodotti compatibili con questo standard e quindi di base un po' quelli prodotti commercializzati da Huawei che sappiamo che in questo periodo è un argomento un po' delicato per via appunto del ban imposto dagli USA però se avete seguito le ultime notizie probabilmente saprete anche che proprio di recente qualcosa ha iniziato a muoversi in favore appunto al ritorno alla commercializzazione dei prodotti di Huawei e questa è sicuramente una buona notizia per chi appunto magari spera un giorno di comprare un P40 o qualcos'altro che vedremo in futuro perché sicuramente vede appunto il ritorno di un brand sul mercato degli smartphone a cui quest'anno diciamolo è stato veramente un anno difficile però a parte questo discorso questo era per farvi capire un attimo la differenza appunto tra Wi-Fi 6 diciamo standard e Wi-Fi 6 Plus che appunto è qualcosa che Huawei mette a disposizione sui terminali compatibili un'altra diciamo chicca diciamo di questo router che a dire vero non ve l'ho ancora fatto vedere bene la cosa che mi è piaciuta molto è il fatto di essere molto semplici nella linea molto piatta anche se il fatto di essere piatta è un po' un'illusione ottica perché appunto dà questo profilo che cerca di nascondere un po' la parte sottostante quindi sembra sottile così ma in realtà lo vedete anche voi è un pochino più spesso ha questa base totalmente bianca con questi antennoni che spiccano sicuramente la cosa magari che non mi è piaciuta particolarmente è il fatto che le antenne non sono orientabili quindi posso soltanto inclinarle ma non posso direzionarle e qua sopra io ho il pulsante che sostanzialmente è quello che troviamo classico all'interno dei router ovvero quello che va a facilitare la connessione dei dispositivi tramite il pulsante VPS e poi qua lo vedete anche voi qua è indicato la presenza di un chip NFC e questo facilita enormemente l'abbinamento di un telefono al router perché basta appoggiare un telefono compatibile con la NFC al router per vedere comparire un messaggio che ci chiede se vogliamo connetterci senza dover starli a cercare o a immettere nessun tipo di dato l'ho trovato molto semplice e molto veloce nell'utilizzo non so quanto sia effettivamente sfruttabile in un ambito domestico nel senso che una volta che io ho dispositivi connessi questa funzionalità un po' viene meno magari in ambito di ufficio in contesti un pochino più trafficati in termini di pubblico può essere sicuramente un elemento apprezzabile l'altra cosa che vi segnalo è la parte sul retro perché vedete che è un pochino limitata e un pochino anche per via della presenza degli antennoni che vanno un po' ad ingombrare il retro e abbiamo quindi innanzitutto non mi è piaciuto molto il fatto che cerco di farvelo vedere si vedono le porte internet e la porta dell'alimentazione ma non ci sono le scritte diciamo con l'inchiostro sono incise si leggono ma non risaltano sostanzialmente e qua abbiamo sostanzialmente la porta per l'alimentazione la porta ethernet van quindi quella al quale dovrete collegare il vostro modem e poi abbiamo tre porte ethernet che per gli standard di oggi a mio avviso sono un pochino poche è vero però che possiamo comunque espandere la cosa tramite uno switch quindi diciamo che questa cosa si può essere un limite per alcuni però è un limite molto facilmente bypassabile e poi abbiamo pulsanti di reset e pulsanti di accensione non c'è nient'altro diciamo che in generale è un modem che funziona discretamente bene che è compatibile che è aggiornato con gli standard più recenti l'unica cosa che ho riscontrato nell'utilizzo è il fatto che comunque tende a scaldare un pochino ok ho trovato che appoggiando la mano si sente un po' di calore e questo calore veniva trasmesso anche al mobiletto sottostante non ho notato però dei cali di performance nel senso che nonostante il calore questa cosa sembra non diciamo non impattare più di tanto sulle performance è anche vero che con un tempo di utilizzo di due settimane magari non si riesce a stimare bene questa cosa e questa cosa il fatto che magari scalda un pochino è probabilmente dato dal fatto che appunto essendo estremamente sottile nel design non ha magari troppo spazio per dissipare il calore questo è un mio pensiero però io ve lo segnalo perché comunque è giusto dirlo è giusto segnalarlo in generale però ripeto si tratta di un prodotto sicuramente che consiglierei per chi dispone di una casa su un piano che quindi non ha particolari esigenze di andare a coprire ogni singole stanze perché magari in una stanza arriva meno facilmente che in altre perché appunto ha un prezzo davvero molto molto interessante e poi ha delle funzionalità sicuramente abbastanza buone e nuove non vi ho fatto vedere poi ultima cosa il led di stato che si colora a seconda della presenza o meno del segnale o in base al fatto che noi utilizziamo questo router magari anche come access point perché ovviamente è un po' come diversi router ha la doppia funzionalità può funzionare sia come router sia come access point io penso di avervi detto più o meno tutto trovate ovviamente maggiori dettagli nella recensione sul blog quindi se magari mi sono dimenticato qualcosa approfondite tramite il link che trovate in descrizione e noi ci vediamo alla prossima recensione e per ora è tutto come al solito se vi è piaciuto questo video mettete like condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale ciao a tutti grazie a tutti